Andremo a mangiare dell'ananas, mia piccola testolina di piolina Schipper, guarda Analisi Sembra una lampadina incandescenza che segnala qualcosa di insolito, come un malfunzionamento La trovo bellina e vagamente ipnotica Anche questo, signore Bene, ricco, il manuale Problema risolto Signore, siamo senza carburante Cosa te lo fa pensare? Si è spento il motore 1 E il motore 2 non è più avvolto dalle fiamme Cinture, ragazzi Non guardare, Pupa Potrebbe mettersi male Attenzione, qui è il comandante che vi parla Ho una notizia buona e una cattiva La buona notizia è che siamo per atterrare Quella cattiva è che sarà un atterramento di fortuna Se si tratta di volare, sappiamo che non avete alcuna scelta Ma grazie per aver volato con Erbe Oh, oh, oh Alza le braccia, Maurice E' divertente se alzi le braccia così So volare Forse è la fine, Marty Voglio dirti che gli amici veri come te Sono uno su un milione Grazie, bello E tu sei sempre stato il migliore So che non ti porterà quando ti dirò Avanti, dimmi, dimmi tutto, dirvelo Ti ho rotto io l'ho in fondo Rosa! I tassi erano possessiti Mi hanno arrabbiato Corrore! Mi dispiace Io ti uccido, mortichiappe È stato lì, mortichiappe Mortichiappe, mortichiappe Scriamo, gloria Dio sempre amato Ti amo, come si chiama? La spiaggia, un buon libro La spiaggia Santo cielo, bambola Stai tremando come una foglia Rico, ti sei divertito abbastanza Tiralo su Giù il carrello Piano adesso Come se volessi baciare la terra Un bacetto, una beccatina Come se baciassi tua sorella Ho detto un bacio E ora un po' di freno Solo un tocco Un sospiro Credo che sia Scatto matto Pronti per l'atterraggio L'emergenza Flop Aprire Siamo arrivati Ma che diamine Che è successo all'aereo? Sto bene Che avete fatto all'aereoplano? Non lo so Sto bene È già finito il film Sto bene Non posso neanche dormire un minuto Ragazzi Sapete che cosa Non siamo al Zietto Kowalski Rapporto sui dispersi Solo due passeggeri Mancano all'appello Schipetti È un numero che mi sta bene Ottimo a terraggio ragazzi Chi ha detto che i pinguini Non sanno volare? Lo vedi? Non posso Voi fate il 5 Che avete da festeggiare? Guardate l'aereoplano Lo aggiusteremo Aggiustarlo? Come fate ad aggiustarlo? Olio di gomito E un bel po' di nastro isolante Dovremmo essere in grado di ripartire tra diciamo 6-9 mesi 69 mesi? No Da 6 a 9 mesi Kowalski Io dico di usare questo problema al nostro vantaggio E come fai? Da dove l'hai tirato fuori quel numero? Voglio che riconfiguri l'assetto Ah bene Fantastico Quindi inizia a riconfigurare Come l'hai fatta quella stima? Tu Del disastro aereo Scusami Bene Comanda tu allora Aggiusta tu l'aereoplano Chi ti dà l'autorizzazione a darmi il comando? D'accordo Allora resto io al comando Già esatto Ci resti tu al comando E tu e i tuoi amici sovversivi stateci fuori dai piedi Hai capito al volo Ma solo perché l'ho deciso io Buon per te Già E sai che c'è? La discussione non è finita